Barchi della zona traffico limitante Commercianti e cittadini chiedono al profetto di annulare le multe di marzo Comune contro Team, sono almeno 133 i casi di inadempienza per mancata pulizia delle aree verdi Omicidio di Martinsicuro e caccia ai complici dell'albanese, mistero sui colpi, slitta l'autopsia Giulianova, gli occupano l'alloggio popolare mentre è ricoverato in clinica Ricerca, presentati i risultati dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo E' intitolata intanto a Cinzia Principe, la sala convegni Sport calcio dopo il rinnovo di contratto di Giuseppe Vivarini a Genova per le finali primavera Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione di Teleponte Siamo a Teramo dove la Confcommercio, la Confesarcenti, la CNA, il consorzio shopping in Teramo Centro E l'associazione in difesa dei consumatori Robin Hood chiedono al prefetto di annullare Tutte le contravvenzioni registrate nel mese di marzo dei varchi elettronici All'ingresso della zona traffico limitato nel centro storico di Teramo E' particolare nel servizio Il problema delle contravvenzioni in centro storico nella zona traffico limitato non sta facendo dormire sonni tranquilli Ai residenti di Teramani che hanno preso tante contravvenzioni ma anche ai commercianti e così sfoglia? Sì, ma non solo ai commercianti perché noi certamente c'entriamo ma in questo caso c'entrano i cittadini I normali cittadini che purtroppo sono entrati in centro storico nella ZTL e hanno si sonvisci di arrivare tante multe Cosa chiedete ora? Chiediamo al prefetto di poter cancellare il primo mese anche perché era stato detto anche dall'assessore Che i primi giorni non ci sarebbero state le multe Noi come associazione ci preme sottolineare l'aspetto sociale Già c'è stata una prima ribellione presso il comando dei vigili urbani Ogni giorno noi siamo qui a fare i pompieri per evitare problematiche Anche perché persone che prendono 40 multe nell'ambito di una famiglia Mi lascio immaginare che tipo di realtà si crea Sì, io a suo tempo quando usci fuori la proposta dei marchi elettronici mi ero posto per due semplici ragioni La prima sotto l'aspetto economico perché era un'ulteriore spesa che la collettività A prescindere da dove venivano questi contributi della regione e altri enti La collettività si doveva accollare perché la spesa fatta dall'amministrazione di odio con l'assessore Rabucchi Competente fu alquanto onerosa e i varchi materiali così come erano stati messi bene o male svolgevano la loro funzione Poi per i problemi che avrebbero creato sotto l'aspetto logistico e con le conseguenze che oggi verifichiamo Perché sicuramente avrebbero creato delle incomprensioni da parte della collettività cittadina E che avrebbero portato a questa situazione L'affidamento dei servizi museali del comune di Teramo se l'ha giudicato la cooperativa sociale Reis di Pineto E l'appalto avrà la durata di un anno Solo due ditte hanno formulato la loro risposta per l'appalto La Reis e il gruppo podistico Amatori Teramo Ma erano state 12 le ditte invitate dal comune a presentare la loro proposta Questa mattina all'apertura delle buste delle offerte prevenute è stata esclusa la società Il gruppo podistico Amatori Teramo per via di carenze nella formulazione della proposta Non figurava tra i documenti allegati la lista descrittiva delle figure professionali Richieste per svolgere il servizio presso i musei cittadini Soprattutto mancava la figura professionale con laurea in scienze umanistiche Negli ultimi giorni c'erano state numerose polemiche Per la presenza di due consiglieri comunali di maggioranza nell'organigramma del gruppo podistico Amatori E perché tale società non aveva mai svolto tali servizi prima d'ora Il gruppo podistico, come prevede il bando, avrebbe riassorbito il personale e Teama Ma lo dovrebbe anche fare la Reis perché appunto lo prevede il bando Torniamo a Martinsicuro dove come ben sapete si è consumato un terribile omicidio E caccia aperta al complice o ai complici di Ariane Ziu L'albanese di 49 anni che ieri ha confessato l'omicidio di Roberto Tizi Il 35enne di Martinsicuro ucciso a colpi di pistola Mentre scendeva dalla macchina guidata dalla compagna sotto la sua abitazione nel centro Truentino domenica sera Mentre si attende la convalida del fermo di polizia giudiziaria Del indiziato di omicidio volontario gravato detenuto da ieri pomeriggio nel carcere di Castronio Gli investigatori tentano di arrivare al più presto all'identificazione e all'arresto di altre persone coinvolte nel delitto Sia le testimonianze che il racconto della testimone chiave dell'agguato La convivente 47enne della vittima, ferita di strisciolo da uno dei proiettili Hanno cristallizzato sul luogo dell'aggressione mortale almeno due persone Tutte fuggite a piedi attraverso i cortili delle abitazioni vicine al luogo dell'omicidio Ne sono convinti anche i magistrati impegnati nel coordinamento delle indagini Il procuratore Guerriero e il sostituto Auriemma Che ieri hanno ascoltato e raccolto la confessione dell'indiziato numero uno Quell'albanese senza fissa dimora Che ha ammesso di aver ucciso per ritorsione i tizi Dopo averne subito l'aggressione fisica all'interno del bar due ore prima della tragedia Intanto resta un mistero di quanti colpi siano stati esplosi E dove abbiano attinto la vittima La testimonianza della donna riferisce di cinque colpi esplosi Mentre in macchina sono stati rinvenuti tre bossoli ed una ogiva E addirittura tizi sarebbe stato raggiunto all'addome e ucciso da un solo proiettile Non in testa dunque come asserito e sospettato in un primo momento A chiarirlo potrebbe essere il ritrovamento dell'arma del delito Una caibro 635 da un lato e l'autopsia dall'altro Quest'ultima è in programma domani Ma è ulteriormente eslittata giovedì per esigenze di indagine La battuta di caccia ai complici di Ziu è ancora aperto E questo influisce anche sugli accertamenti tecnici Torniamo a Teramo dove continua la polemica sul taglio del verde pubblico Tra comune e Teramo Ambiente L'assessore Rudy Di Stefano ha ribadito questa mattina prima di tutto La contestazione di almeno 133 casi di inadembienza al contratto di servizio alla municipalizzata Che nel frattempo ha presentato una fattura da oltre 200 mila euro Al comune Di Stefano conferma che non sarà pagata Vediamo Che riguarda il verde pubblico La mutazione del verde Come è noto Come già più volte detto Il 30 aprile scadeva il servizio alla Teramo Ambiente Avevamo deciso già da tempo di non rinnovarlo E di procedere con degli affidamenti noi Quindi praticamente tornare a riprenderci internamente il servizio La spiacevole sorpresa E parlo di sorpresa Perché non mi è stato possibile fare una verifica approfondita Durante i 4 mesi dell'anno 2015 Di gestione della Teramo Ambiente Perché a tutte le mie sollecitazioni che sono state fatte Mi è stato risposto chiaramente per il meglio dall'amministratore delegato Che non ero tenuto a mettere becco durante le lavorazioni Quindi non avere un cronoprogramma di interventi dove e quando si facevano Bensì solo dopo a Consundiva andare a verificare il lavoro fatto e quello non fatto Ahimè purtroppo il lavoro non fatto ne è parecchio Rimane il rammarico che sono situazioni soprattutto nelle scuole Soprattutto nei parchi giochi Che i primi di aprile, in metà aprile la situazione deve essere già ottimale Perché sono i periodi in cui escono i primi caldi E sono i periodi in cui i bambini vogliono andare fuori Ci dovremmo aspettare una polemica sulla trattativa Perché il Comune non riconoscerà i soldi alla Teramo Ambiente Guardate sicuramente, su questo non cedo ma non cedo non perché è un mio puntiglio C'è chiaro, non è che dice di Stefano vuole cedere perché sa qual è motivo Stiamo amministrando i soldi ai cittadini Se erano soldi miei potevo privatamente mettermi in accordo con chiunque In questo caso no Ho riscontrato che ci sono tante aree non fatte È arrivata una fattura di oltre 200 mila euro Per il periodo dal primo gennaio 2015 al 30 aprile 2015 Mi sembra tutto evidente che il mio dovere morale Oltre che essere chiaramente un diritto Quello di contestare i lavori Ho avuto modo di verificarli personalmente Quindi difficilmente mi si potrà dire questo è stato fatto, questo no Tramite l'URP durante questi quattro mesi Ho comunque fatto 133 segnalazioni alla Teramo Ambiente Sono fatti i giri di tutte 133 segnalazioni Quindi so benissimo gli interventi fatti E quelli non fatti Ho scritto l'ufficio mio, ho scritto la Teramo Ambiente Perché è chiaro che poi tecnicamente adesso Per quantificare la reale somma C'è bisogno di un grandettorio tra il mio dirigente E il direttore generale della Teramo Ambiente Che spero avvenga presto Se questo non è tornerò la carica nei prossimi giorni Ripeto, per correttezza e trasparenza nei confronti dei cittadini Restiamo in tema ambiente Perché anche nella frazione Teramana di Garrano I residenti in accordo con l'amministrazione comunale Hanno preso 10 spugliatori e rastrelli Per pulire alcune aree verdi Anche la frazione di Garrano I residenti della frazione di Garrano Hanno deciso di pulire Quello che c'è da pulire Le erbacce non solo Ne parliamo con il presidente del comitato di frazione Vincenzo Flammini È andata bene? Sì, è andata benissimo la giornata I residenti hanno partecipato Tramite la pulizia della zona Raccogliendo semplicemente i rifiuti O indicando alla ditta Che era venuta a pulire da parte del comune Per quanto riguarda la pulizia dell'erba Le zone più sensibili da pulire Siamo occupati dell'area della chiesa Santa Maria di Melatinum E c'è stata questa buona partecipazione E anche un qualcosa di simpatico Perché abbiamo fatto un piccolo rinfresco Per i residenti che sono arrivati lì A darci una mano Era molto che non veniva pulita in questi termini la frazione? Allora la frazione verrà pulita e viene pulita Del periodo come luglio come al solito Quella zona lì purtroppo era un po' lasciata La zona della chiesa La zona della chiesa Era lasciata incurata perché? Perché la chiesa è stata aperta da poco Era inagibile per il terremoto Quindi non era frequentata E quindi non veniva ripulita Quindi per noi è importante anche il segnale Da parte dell'amministrazione Ringrazio l'assessore Luigi Stefano Che comunque è intervenuto Per permetterci di organizzare questa giornata E dare il segnale della pulizia Dell'amministrazione Dell'intervento sul territorio Per un punto di ritrovo importante Che è la chiesa Un anno all'insegna della ricerca Come normale per l'istituto zooprofilattico E nel nome della dottoressa Vincenza Cinzia Principe Scomparsa prematuramente A lei è stata intitolata la sala convegni Del centro internazionale Per la formazione e l'informazione veterinaria Francesco Gramenzi Di collaterato di Teramo Sono soddisfatto dei risultati conseguiti Ha detto il direttore sanitario Dell'istituto zooprofilattico Giovanni Savini Sia per quanto riguarda Il settore della sanità animale Sia per il settore della sanità pubblica Veterinaria e il servizio Dottor Savini Un giorno importante per l'istituto zooprofilatti Perché oggi avete presentato i risultati Della ricerca di un intero anno E inoltre ricordate anche una figura importante Del vostro staff Sì Inizio con la figura Parlando della collega Dottoressa Vincenza Principe Per gli amici Cinzia Che ho racchiuso la sua figura In due semplici frasi Una presenza silenziosa E un vuoto incolmabile Lei che ha dato tanto alla ricerca Di questo istituto E abbiamo ritenuto giusto E doveroso Attribuirle questa sala convegni In ricordo di una persona splendida Come è stata Cinzia Per quel che concerne invece C'è l'aspetto scientifico Oggi è una giornata Dove si riassume un po' l'attività Di un anno Dell'istituto Per quel che concerne la ricerca corrente Cos'è la ricerca corrente? La ricerca corrente È un'attività di ricerca Finanziata dal Ministero della Salute Dove In altre parole In una serie di progetti Noi cerchiamo di Esaminare I problemi Derivati dal campo Cercandoli di risolvere E trovare nuove soluzioni Gli argomenti Che abbiamo Approfondito Affrontato Sono diversi Tematiche di sanità animale E mi riferisco Di recente Di un impatto Abbastanza importante Quello Relativo allo studio Sulla mortalità dei cetacei Spiaggiamento dei cetacei E conseguente mortalità Dove Attraverso Una rete Una rete Gli istituti Zoprofilattici Attraverso La collaborazione Con l'università E non solo Con istituti Importanti istituti stranieri Anche americani Abbiamo Cercato di dare una risposta Al perché Di questi spiaggiamenti Al perché Si verifichero Qual è Dottore? Sono ancora In fase di studio Un medico Incaricato Dell'ASL Sarà a disposizione Del personale Del comando provinciale Dei vigili del fuoco Alla caserma Di via Diaz E quanto stabilito Dal protocollo Firmato questa mattina Dal direttore generale Dell'azienda sanitaria Locale di Taramo Roberto Fagnano E dal direttore regionale Del corpo Dei vigili del fuoco In Abruzzo L'ingegner Giorgio Alocci Alla presenza Del comandante provinciale Ingegner Romeo Pansone Il medico Svolgerà tutta una serie Di funzioni di sorveglianza E prevenzione sanitaria A tutela del personale Dipendente Del corpo E' stato siglato Questa mattina L'Aquila Un accordo Tra la regione Abruzzo E gli uffici giudiziari Del distretto d'Abruzzo Con il quale Vengono definite Le procedure di attuazione Dei progetti formativi A titolarità Ministeriale In favore Di lavoratori Cassi integrati In mobilità Socialmente utili Disoccupati Che a partire dal 2010 Hanno partecipato A progetti formativi Presso gli uffici giudiziari D'Abruzzo Vediamo Con l'atto Sottoscritto Questa mattina Prosegue L'impegno Della regione Di attenzione Nei confronti Del distretto Giudiziario Della Abruzzo Ci stanno a cuore Le istituzioni Dello Stato E del territorio Che devono Poter funzionare In questo caso Abbiamo preso atto Dietro Rappresentazione Del Presidente La Corte d'Appello Del Procuratore Gionale La Corte d'Appello Che c'era Un problema Riguardante Risorse umane Formatesi Volenterose Capaci di essere utili Che se aiutate Potevano continuare A garantire Il loro servizio All'interno Del distretto giudiziario Ci siamo ingegnati Con l'assessorato All'Uelfare Le politiche del lavoro Abbiamo trovato Lo strumento L'opportunità La procedura Per fare in modo Che si attivasse Un percorso ulteriormente Formativo Che li specializzasse Facesse possedere loro Una qualifica Da poter spendere Impiegandola Sia nel circuito Lavorativo Del Ministero Di Grazie e Giustizia Ma anche In altri circuiti Per coloro I quali potessero Essere interessati Il valore Di questa iniziativa È l'innovatività La capacità Di recupero Di non disperdere Risorse umane Ma anche finanziarie E poi La volontà Di inserire All'interno Di un progetto L'ottenimento Il conseguimento Di una qualifica Questa diventa Una buona pratica Sulla quale Richiamare le attenzioni Di Ministero Del lavoro nazionale Ministero Di Grazie e Giustizia Ministero Della funzione pubblica Noi ci crediamo A questo patto Collaborativo Regione Territorio Stato In questo caso Chi se ne avvantaggia Chi ne beneficia E il centralissimo Ministero Di Grazie e Giustizia Sessori I fondi invece Provengono dal Fondo sociale europeo Circa 1 milione 300 mila euro Un po' di più Circa 1 milione Per 194 operatori Che saranno appunto Qualificati Avranno una qualifica Come diceva il Presidente Spendibile anche Nel mercato privato Quindi oltre Gli uffici finanziari E questo milione E 8 Sarà preso Dai residui Del Fondo sociale europeo 2007-2013 Si occupano la casa Mentre è ricoverato In clinica E' caduto a Giulia Nova E il Sindaco Mastromauro Dispone lo sgombero E' il ventesimo caso Vediamo Si ricovera in clinica E mentre è malato Impegnato a curarsi Lontano dalla propria abitazione Una casa popolare Dell'Ater Un altro inquilino Gli occupa abusivamente L'alloggio E' successo a Giulia Nova Dove il Sindaco Francesco Mastromauro Ha dovuto emettere Un'ordinanza di sgombero Urgente Per ripristinare La legalità Dell'assegnazione La vicenda E' accaduta Lo scorso 6 giugno Ma si è appresa oggi Quando è intervenuta L'amministrazione comunale Si procederà Al recupero E alla denuncia All'autorità giudiziaria Della persona Che ha proceduto All'occupazione abusiva Ha detto il Sindaco A Giulia Nova L'occupazione abusiva Degli alloggi popolari Sembra essere Una questione abituale L'ordinanza emessa In queste ore Dal primo cittadino E la ventesima Del genere Già nel 2009 Dice Mastromauro Promisi che L'illegalità E la violazione Dei diritti Non avrebbero trovato Indulgenza O disattenzione Diversamente dal passato E difatti In tutti questi anni Si è proceduto A togliere Le case popolari A chi aveva Violato le regole Per l'assegnazione Aggiunge il Sindaco O non aveva I titoli Per occuparle Assegnandole A quanti erano In regola E di quelle case Avevano realmente Bisogno Restiamo a Giulia Nova Con un bel progetto Scolastico La nostra Cina E' il titolo Della mostra Organizzata Della nostra Cina E spero che vi piaccia Buona visione Questo incontro Insieme alla scuola E' una sinergia Vincente Per quando riguarda L'innovazione Nella scuola Al di là di quello Che viene programmato In giro Per l'Italia Con la buona scuola Penso qui a Giulia Nova Col prese De Valentini Abbiamo realizzato Un prodotto Un sistema Sicuramente innovativo Unico in Italia Che permette Tramite questa mattonella Con QR code E tecnologia NFC Di arrivare Direttamente Allo studente In modo Semplice E efficace E soprattutto Permette allo studente Di dialogare Con l'istituto E col preside Poi passando Quelle che sono Le tradizionali Forme Di comunicazione Che sono Fino ad ora Messe in pratica Attraverso Una Un'app Lo studente Cosa può fare Può Dialogare Può Attenzionare La dirigenza Scolastica Attraverso Questa app Può trasferire Informazioni Può sollecitare L'intervento Dello stesso Dirigente Della stessa Consiglio Della scuola E magari Dove Accadessero Dei elementi Di vandalismo O di bullismo Prontamente Lo stesso Studente Quindi Controllo Gruppo Repari Potrebbe Attenzionare Il nostro Dirigente E quindi Attivare Quelle forme Di contenimento Di azioni Vandalistiche O di bullismo Come ha appena Detto il professor Cifaldi Questa Collaborazione Tra il liceo Scientifico Marie Curie E L'Università Di Chieti Pescara In particolare Con lo spin off Questo ente Innovativo Se vogliamo Della Università Di Chieti Per noi È Un qualcosa Di particolarmente Importante Perché Ci permette Di agire In maniera Sinergica In maniera Completa Per la formazione Dei nostri ragazzi Ecco Questo è un punto Di forza Sul quale Noi Inizieremo Un nuovo percorso Per questa scuola Hanno preso Il via I lavori Di smantellamento Dell'antenna Traliccio Di Monte Pagano Gli interventi A cura Della Betecco Di Ruvo Di Puglia Prevedono La demolizione Entro una decina Di giorni Dell'intera struttura Che sorge Sul colle Di San Rocco Senza alcun onere A carico Delle casse comunali Come previsto Dal contratto Firmato lo scorso Mese di maggio La ditta Tratterrà per sé Il ferro recuperato Versando nelle casse comunali Circa 4.000 euro Che l'amministrazione Pavone Investirà Per l'acquisto Di nuovo arredo urbano Da destinare La frazione Di Monte Pagano La fusione La fusione Di Pescara Spoltore Monte Silvano Risolverebbe Anche molti Guai Finanziari Dei tre Ad affermarlo E il Movimento 5 Stelle Che ritiene Un ulteriore Danno Milionario In ritardo E la non volontà Della regione Abruzzo Di legiferare Ad otto mesi Dal referendum E il Movimento 5 Stelle A squarciare Ancora una volta L'assordante Silenzio Sulla vicenda Della fusione Dei comuni Di Pescara Spoltore E Montesilvano Che a stragrande maggioranza Le comunità Le tre comunità Hanno votato Lo scorso anno In un referendum Il messaggio Che noi lanciamo È questo Cioè Al presidente Diciamo Che la partita È già finita E hanno vinto I cittadini I cittadini Si sono espressi Due su tre In favore Della fusione Che ovviamente Porteranno Notevoli benefici A tutti e tre I comuni Quindi Rivolgiamo Un appello Oggi Rivolgiamo Un appello Anche al sindaco Di Pescara Che finora È restato in silenzio Come il suo presidente In regione Finanziariamente Gli enti locali Non se la passano bene Anzi Malissimo Se pensiamo A Pescara Un counter In tempo reale Mostra Quante risorse Finanziarie Perdono I tre comuni Ogni minuto Ogni ora Per la mancata fusione Un taglio Delle poltrone politiche Per circa Un centinaio di poltrone Per un milione E trecento mila euro All'anno La legge del Rio Diciamo Agevola La fusione Dei comuni Con i finanziamenti Statali Abbiamo fatto un calcolo Praticamente Stiamo perdendo Circa 15 milioni Di euro All'anno Per dieci anni Da quando Il presidente Della regione Avrebbe dovuto Varare Questa nuova legge Ricordiamo L'11 settembre 90 giorni Quindi dalla proclamazione Fino ad ora Abbiamo perso 11 milioni e mezzo Quindi Riteniamo Che non ci sia Più tempo Da perdere Perché il comune Di Pescara Sta tassando L'inverosimile Tutti i suoi cittadini E bisogna procedere In questa direzione Con l'approvazione Di questa proposta Di legge L'azienda Maiella Morrone Protesta In regione Assicurano I servizi sociali In 16 comuni Della Val Pescara Nonostante Non percepiscano Stipendi Da ben 10 mesi Dopo tante promesse Non mantenute Lavoratori e lavoratrici Dell'azienda Ora manifestano La loro rabbia Presso gli uffici Della regione Vediamo C'è una delegazione Di lavoratrici Arrabbiate Questa mattina Davanti agli uffici Della giunta regionale A Pescara In Viale Bovio Sì oramai Siamo qui da Più di un mese I picchetti Sono continui Lo stadio di agitazione Persiste Perché la regione Continua a promettere 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 Ci aveva parlato Di un piano di risanamento Di farsi carico Di questa azienda Parliamo dell'azienda Maiella e Morrone Che si occupa Dei servizi sociali Nel comprensorio Nel territorio Della comunità Maiella e Morrone E queste lavoratrici Sono qui senza stipendio Da 10 mesi ormai Da 10 mesi Non mangiano più E continuano a garantire I servizi essenziali Avevamo un incontro Con la regione Il 20 maggio Ed è stato rinviato All'8 giugno E stamattina È stato rinviato Di nuovo A data da destinarsi Non abbiamo Nessun tipo di informazione Non abbiamo tempi certi Su quando arriveranno Gli stipendi Oramai crediamo Che non li vedremo mai I lavoratori Sono disperati E noi continueremo Lo stato di agitazione Studieremo anche Nuove forme di lotta Ma non molleremo Quante siete Una cinquantina Di lavoratrici 65 lavoratrici Le prospettive Non sono delle migliori Vi sentite un po' I presi in giro Assolutamente sì Abbiamo sentito favole Ormai da mesi Adesso vogliamo Delle certezze La regione È stata molto chiara Ha incontrato Il presidente D'Alfonso Ha incontrato Personalmente Le lavoratrici Ha fatto delle Dichiarazioni pubbliche E noi adesso Vogliamo sapere Quando avranno Concretezza Queste promesse Il comune di Teramo Rende noto Che nella notte Tra venerdì e sabato Sarà effettuato Un intervento Di disinfestazione Adulticida Nel territorio comunale Con inizio Dalle frazioni E zone periferiche Per poi trattare Il centro cittadino Quattro appuntamenti Di sabato Dal 13 giugno Al 4 luglio Civitella del Tronto Va in scena Attraverso i tenerari Tematici Alla scoperta Del borgo Aperitivi E rappresentazioni teatrali Vediamo Guido scesi Un appuntamento importante A Civitella del Tronto Con Civitella in scena Cos'è? È una Prima manifestazione Per Civitella Dove si incrociano Storia, gusto e teatro Anzi nell'ordine Sarebbe meglio dire Teatro, storia e gusto Questo perché Insieme a Diverse forze Del territorio Si è deciso Di non rendere La rappresentazione teatrale Sola Nella serata civitellese Ma di aggiungervi Precedentemente Un percorso Che coinvolge Fortezza Borgo Museo Nacht Si conclude con un aperitivo Cenato E poi Finisce la serata A teatro Sono quattro diversi appuntamenti Sono quindi quattro diversi percorsi All'interno del borgo Sabina Gasperi Il direttore artistico Della compagnia Il Logione Quattro spettacoli Quattro rappresentazioni A Civitella A Civitella in scena Quali? Sì Ogni sabato Appunto Ogni sabato A partire dal 13 giugno Fino al 4 luglio Abbiamo Allestito un cartellone Quasi Spiccatamente Comico Sicuramente brillante Di teatro contemporaneo Le compagnie interessate Sono del territorio Ci saranno la prima sera La compagnia Maschere vive Di Ascoli Con lo spettacolo Frotto le bugie Matti dalle gare A seguire Uno spettacolo Di musical Allestito dalla Compagnia Feel Good Di Monteprandone Poi ci sarà Invece Il 27 giugno La compagnia Nuovo Teatro Piceno Con un collage Di pezzi Di Shakespeare Molto brillante E suggestivo E si intitola Tutto Shakespeare Minuto per minuto E l'ultima Compagnia Ad esibirsi Sarà La compagnia Teatrale Il Logione Che ha sede In Sant'Egidio E che è nata Anche sotto legida Di Angelo Carestia Con uno spettacolo Brillantissimo E in quella sede Verranno consegnate Le targhe di riconoscimento Alle compagnie Che avranno Partecipato Alla manifestazione Il momento Della rubrica Di Giancarlo Falconi Carta canta Tutti noi Ce la prendiamo Con la storia Ma io dico Che la colpa È nostra È evidente Che la gente Poco sedia Quando parla Di sinistra Destra Ma cos'è La destra Zero Sinistra E Destra Sinistra Destra Sinistra Destra Sinistra Destra Sinistra Destra Sinistra Basta Benvenuti A Carta Canta Questo documento È della Consol Fine Indagini Sulla Tercas Questo documento Vale più di 40 milioni Di euro Vale per Chi ha acquistato I pronti Controtermine Vale per Gli azionisti Vale per Un territorio Che reclama Giustizia E legalità Sempre in attesa Dell'istruzione Del processo A Teramo Sempre in attesa Dell'inizio Del processo A Roma Siamo ancora Nelle fasi Iniziali La Consob Scrive Due contestazioni La prima Dall'analisi Della documentazione Trasmessa dal Commissario Straordinario A seguito Delle verifiche Dallo stesso Condotte Sono emesse Irregolarità Nella profilatura Della clientela Commesse Nell'ambito Della operatività Avente D'oggetto La negoziazione Di azioni Di propria Emissione State attenti Lettera B Le verifiche Condotte Hanno evidenziato Carenze Nel processo Di mappatura Dei prodotti Che hanno quindi Inficiato La valutazione Di adeguatezza Delle operazioni Disposte Dalla clientela Un documento Di oltre 170 pagine Che io consiglio Di portare A chi sta Incontrando La banca popolare Di Bari Per avere Indietro I soldi Dei pronti Controtermine Quando vi offriranno Il 50 Il 60 Il 70 L'80% Fategli leggere Ripetetegli Questo documento Che stiamo leggendo Su carta canta A un certo punto La Consob Scrive Con riguardo Alla gravità Obiettiva Assumono altresì Rilevanza In particolare I criteri Di seguito Indicati La natura Sia procedurale Che comportamentale Delle violazioni Accettate Sostanziatisi In Irregolarità Che hanno Pregiudicato La corretta Prestazione Di servizi Di investimento La rilevanza Quantitativa Delle operazioni Interessate Dalle irregolarità Il numero Degli investitori Coinvolti Nonché La circostanza Che si trattasse Di clientela Al dettaglio I reclami Pervenuti Da clienti Sottoscrittori Per il mancato Rimborso Di importi Investiti Nei titoli Tercas Questo è un documento Importantissimo Io Personalmente Rimango Dell'idea Che la Tercas Non doveva essere Commissariata Ma questo è il mio pensiero Che proverò a spiegarvi Nelle prossime puntate Di Carta Canta Se ci saranno Nel frattempo A chi ha investito In azioni E a chi ha acquistato I pronti Controtermine Vedo un segnale Positivo Parola di Consolo Carta Canta Previsioni in Abruzzo In provincia di Teramo Al mattino sereno Su gran parte Del territorio provinciale Dal pomeriggio Fino a notte Cielo in prevalenza Sereno Temperature stazionarie Massime comprese Tra 28 e 31 gradi Nelle pianure Dell'entroterra Tra 27 e 30 gradi Sulle coste Venti deboli orientali Mare calmo Quasi calmo L'apertura è dedicata Al pescara calcio La città è pronta Per la finalissima Di questa sera E' tutto pronto Dunque per la finale Di playoff Di serie B Questa sera Il nostro stadio Dell'Ara Tutto esaurito Circa 3.000 biglietti Venduti a pescara La città crede E giustamente Nella serie A Vediamo Conto alla rovescia Per i tifosi biancazzurri La città è in formento Per la finale Che si terrà Questa sera Al dall'Ara Il pescara Si gioca la Cessenà Contro il Bologna Bandiere esposte A palazzo di città E su disposizione Del sindaco Alessandrini Questa sera Anche la torre campanaria Sarà biancazzurra Il resto della città Aspetta la partita così Dove guarderai La partita questa sera? Ma questa sera Me la guarderò All'aeroporto Perché torno in Sardegna Io Giochiamo con le giovanili Del pescara E ora torno Nel mio paradiso Eh La vedo Insieme alla mia squadra Un bar a San Pellegrino Spero che passa Perché il pescara È più forte fuori casa Rispetto che in casa Quindi ce la possiamo fare È una speranza però Condita da una certezza Che la squadra Si è ritrovata Ultimamente Sì E quindi questo può essere Una marcia in più lì Eh vabbò Spero che vinca Una delle quattro ricevitorie Che hanno venduto i biglietti Per la partita È il caffè ideale Qui 681 Sai in totale? In totale sui 3000 siamo Tanti tifosi che si sono organizzati Con pulmini e mezzi propri Andiamo tutti convinti Di fare risultato Di portare la Serie A Qui a Pescara Ma dove è la partita? A Bologna 1 a 2 Rete di Salamon E Caprari Bravo Bravo E sempre il vostro pescara E questa sera Le 22.30 circa Non perdete l'appuntamento Con A Tutto Campo Dove chiaramente Si farà un po' il punto Della situazione E si spera Si possa festeggiare Questo ingresso del pescara In Serie A Torniamo adesso In Serie B Dunque al Teramo Calcio Dopo la firma Sul rinnovo contrattuale Che è stata apposta Ieri pomeriggio Nella sede del club Di Via Overdan Il tecnico del Teramo Vincenzo Vivarini È partito alla volta Della Liguria Insieme al direttore sportivo Marcello Di Giuseppe I due sono a Genova Per seguire alcuni giovani interessati Impegnati nella fase finale Del campionato primavera Che è in corso di svolgimento Proprio in queste ore Intanto sul fronte mercato Diventa sempre più calda La pista Che porta Bartolomei Del Ponte d'Era In settimana La trattativa potrebbe giungere A conclusione Trattativa avviata Anche per Gomis Del Torino In questo caso Bisognerà battere La concorrenza Di diversi club Brassolati Anche di categoria superiore In avanti Viene seguito Simone Andrea Gans Del Milan Quest'anno In prestito al Como Prima di presentare Un'offerta ufficiale Il Teramo Dovrà attendere La fine dei playoff Di Lega Pro Tra i giocatori Scadenza di contratto Nicola Fiore Piace all'Aquila Il nuovo direttore sportivo Rosso-Bru Alessandro Battisti Ha espresso il suo gradimento Nei confronti del giocatore Che potrebbe anche cambiare Casacca Giornata piena Per la dirigenza Dell'Aquila Calcio A partire dall'incontro di oggi Con l'attaccante Mario Pacilli E il suo agente donato Di Campli Per ratificare La rescissione consensuale Del contratto Successivamente Nel primo pomeriggio Si riunirà il CDA Dei soci Per fare il punto Della situazione Sui contratti Dei calciatori tesserati E per parlare Dell'allenatore Nunzio Zavettieri Che ormai È un ex Della compagine aquilana Per lui infatti Si parla di un contratto Con l'Alessandria Il Chieti È una nuova proprietà In uno studio notarile romano Walter Bellia Ha firmato L'atto di cessione Della società neroverde Al gruppo romano Rappresentato da Giorgio Pomponi Il presidente della società Tiatina Sarà Aldo Savastano Uomo di fiducia Del ristoratore raziale L'area tecnica Invece sarà affidata Agli agenti FIFA Francesco Vitiello E Riccardo Canuti Tante legno entry In casa abruzzese Con Walter Costa Che però continuerà A ricoprire Il ruolo di vicepresidente Da valutare infine Le posizioni Del DS Omar Trovarello E dall'allenatore Donato Ronci Domenica scorsa Nel parco comunale Ex caserma di Cocco Di Pescara Si svolta La dodicesima giornata Nazionale dello sport Organizzata dal Comitato regionale Abruzzese Del Comi Vediamo La giornata Nazionale dello sport È una tradizione Di inizio estate Per il CONI La giornata nazionale dello sport Si effettua in tutta Italia Nella prima domenica di giugno È un momento di promozione Dell'attività sportiva Diciamo che è un momento Soprattutto che riguarda La promozione dell'attività Di far conoscere Alcune discipline sportive Cosiddette minori Ai ragazzi Che saranno oggi pomeriggio Qui al parco Dall'ex caserma di Cocco Certo che tu anche come Presidente regionale Devi fare i salti mortali Per consentire La prosecuzione Delle attività sportive Durante tutto l'anno Sì Questo è un periodo Molto Molto impegnativo Noi veniamo fuori Dalla fine di un progetto Di coesione sociale Fatto Per i ragazzi Delle aree del cratere In cui Abbiamo impegnato 2500 bambini Di diverse scuole Della provincia di Pescara E dell'Aquila Con una manifestazione finale Che si è svolta Il 20 di maggio All'Aquila Con 2500 alunni E 300 insegnanti Quindi vi lascio immaginare Che tipo di impegno Comunque Diciamo che noi stiamo Adesso attivando I vari Campi estivi Due Educamp Nella provincia Di Teramo E di Chieti La solita manifestazione Che si fa a Pescara Che lo sport Non va in vacanza Che inizierà Il 16 Il 16 di giugno La chiusura delle scuole Che vede coinvolti Circa 600 ragazzi Della città di Pescara Per arrivare al clou Che vi vede comunque Protagonisti Di fine estate Con i giochi del Mediterraneo Sulla spiaggia Voi siete comunque Attenti osservatori Anche di questo evento Tra i più importanti Della nostra nazione Sì certamente La macchina organizzativa Già è partita Da un po' Penso che sarà Un'edizione La prima edizione Di questi giochi Sulla spiaggia Sicuramente Pescara Saprà Ospitare Queste manifestazioni Sportive Nel migliore dei modi Come già successo In occasione Dei giochi del Mediterraneo Del 2009 È tutto per questa edizione Del nostro telegiornale Grazie per l'attenzione Non perdete Tra breve Un altro numero Di Medicina Più Con E di Manuel Pantalone E poi Alle 22.30 Circa L'appuntamento Con A tutto campo Arrivederci Buona serata Grazie a tutti